Compiere opere di misericordia vuol dire condividere e rischiare, non dirà dopo i queste portano a essere oggetto di beffa oltre che scomodità. Durante la messa mattutina a Santa Marta Papa Francesco si è soffermato sulle caratteristiche peculiari delle opere di misericordia partendo dalla prima lettura tratta dal libro di Tobia. Essere misericordiosi verso quanti ci sono vicini nonostante i rischi che si corrono, le scomodità che si subiscono e anche le chiacchiere e i commenti a cui si va incontro vuol dire anzitutto riconoscere che il Signore ha avuto pietà di noi e nonostante i nostri peccati ci ha perdonati. Un'opera di misericordia non è fare una cosa per scaricare la coscienza, un'opera di bene così sono più tranquillo ma mi tolgo un peso da dosso e anche compatire il dolore altrui. condividere e compatire ma non insieme. E' misericordioso quello che sa condividere e anche compatire i problemi delle altre persone. Grazie. Grazie.